La pomina è carina, è pedosina, è mia pina Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio, suo, canale Il canale dei? Ciugatti Ciugattini Niente, in questo periodo Sofì è super canterina, non la ferma nessuno Allora, chiudi gli occhietti che partiamo Questo lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qui Apri un po' gli occhi Pupsi 2 Sì E Pupsi 1 E allora questo è un video in cui bisogna fare un'importantissima scelta Sofì sceglierà la Pupsi 2 o la Pupsi 1 Pupsi 2 E allora la domanda ragazzi è Nella Pupsi 1 Cosa ci sarà Cosa ci sarà stato E allora qui Ecco Cosa c'è nella Pupsi 1? Indovinate Non dovrebbe essere difficile Allora vediamo un po' cosa c'è le sparkly creeper queste ci piacciono da morire adesso andiamo un secondo a prendere le due che abbiamo guardiamo se erano rare, popolari o come erano e ti sfido a fare meglio sono arrivate vediamo un po' avevamo l'unicornina io adoro la sua colonna Siofì, troverai qualcuno più bello di me? no ma magari qualcuno con cui giocare porco io non sono abbastanza bella voi due siete la cosa più bella del mondo perché aspettate te hai la coda metallizzata e te sei fofosa grazie allora siamo curiose, pronti all'unboxing? per questo mi chiamo il mio parco e iniziamo ad aprire qui sì, che vogliamo trovare la checklist e ricordarci chi c'era dentro io voglio il giochetto primo qui ci sono le bustine unicorn magic e unicorn shimmer questo è il biberon la checklist, la checklist la checklist, dai 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 voglio questo aspetta, mi vediamo cosa piace a Sofì il draghetto verde che ovviamente è un ultra raro a me piaceva anche lei la cresciolina è vero, sì anche la formica mi piaceva a Sofì, no no poi c'è perché a me non mi faccio le corde no, le rughe le rughe? ah, perché c'è le rughe io vorrei sapere se questo l'hanno fatto veramente arrabbiato o no vabbè, vabbè dai e poi l'ultimo l'arribaletto allora, iniziamo se qui c'è aspetta, aspetta, da dove iniziamo? da qui dal biberon sì biberon ci sarà guardiamo un po' quanto abbiamo trovato? è cacca è cacca cola è coca cola no, è cacca cola no, cacca cola cacca cola non ci posso credere c'è scritto cacca cola è vero ragazzi non è coca cola, giustamente è cacca cola ma è diet, tranquilli non c'è lo zucchero secondo me è il pandino vediamo chi sarà più felice figli, abbiamo scoperto che la bustina è per tutti uguali sì, fai mhm tattaram 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 e no e rimane tattaradudu metti là che dobbiamo venire a vedere presto presto, siamo curiosissimi che ci sarà? tattaram ma c'è? certo, non si apre ah si è aperto c'è? qua, non mi piace eh, ma allora vediamo un po' chi c'è secondo me è bella vediamola un po' aspettatevi che Sofì sta ancora facendo una faccia un po' strana sta decidendo ti piace? lasciala un attimo no a me non mi piace questa cosa ma non sono rughe, dai che cosa sono allora? io piango adesso il vino gli piaccio sono già molto triste vabbè eppure c'ho il corno brillante vabbè dai allora è bella lo stesso e sono tutta brilluccicante guardate è bella lo stesso cioè guardate qua è proprio è metallizzata è metallizzata è proprio bella secondo me invece sì, sì, dai è bella pensavo a cose più brutte è poi è bella è più bella perché al posto delle mani c'ha le ali c'ha le ali guardate occhi però soffri che ha rispetto agli altri l'hai vista? sì, l'ho vista ha degli occhi bellissimi la procedura dice che cosa dobbiamo fare Sofì? allora prima pulizia sul tavolo perfetto 800.000 anni di istruzione sei pronta? sì allora tieni aspetta un attimo che io vengo a vedere andiamo da bere aspetta eh ti piace la coca cola? dici mi piace la coca cola bevuto tutto? bevuto tutto? sì sì metti il ciuccio eh metti il ciuccio adesso eh e sciacchere un minuto via pronti è passato? no ancora no pronti? allora siamo pronti a vedere che cosa fa pronti? vediamo anche di che colore è anche di che colore è vero hai mangiato i lamponi? è un po' fucsia eh questo ma che schifo mi ha vomitato addosso ragazzi se da grandi volete un bambino questo vi dà la prova che quando vomiteranno i vostri bambini vi vomiteranno addosso non lo so sì rimettiamo il ciuccio per l'amor di dio allora adesso ci servono 10-20 minuti per lasciare riposare il nostro slime no si deve riprendere anche lei e lei invece si deve riprendere appena ha vomitato aspettate ho fatto ho fatto un po' di disastro ma Sofì me lo male è stata brava e adesso? apriamo questa allora aspetta e facciamo posto Sofì invece di fare tutti faccio le saponette come dice mamma e adesso chi troveremo Sofì? il traghetto io voglio trovare il traghetto di solito siamo abbastanza fortunati Sofì no con le lol ma con questi sì vero? vediamo un po' due bustine o tre bustine allora abbiamo trovato unicorn magic e unicorn shimmer sta tirando fuori tutto Sofì piano non tastare potremmo capire chi è tastandolo no io ho capito ma non te lo dico allora apri il biberon così lo posso capire anch'io è bella a me mi piaceva è bella o almeno credo che sia quella lì sì è quella lì è quella lì la vedo è bella sì è bellissima l'ha già aperta Sofì vediamola eccola ma c'è i tatuaggi come tatuaggi? guarda guarda eh guarda aspetta ma che cosa ha sulle orecchie? Sofì si è fatta le orecchie i buchi e le orecchie ha tanti sì sì no Chichi ciao a tutti io sono Chichi sono un po' ribelle ho un po' di spunzoni vedete sulle mie orecchie lunghe vengo subito e poi ho i tatuaggi uno di un po' di qua e un po' di là cosa c'ha tatuato? c'hanno tatuato anche un narvalo Sofì ma attenzione le trasmissioni riprenderanno appena Sofì tornerà adesso è successo un disastro è andata a prendere da sola l'acqua così combinerà un guaio ancora più grande siete curiosi di sapere che cosa combinerà Sofì? vieni ti dà la pappa e qualcuno mi salva ci ho ripensato non ci voglio andare da Sofì perché? brutti e ho avuto la pappa nooo cosa c'è? c'ha i dentini nooo dopo li vediamo aspetta facceli vedere c'ha i dentolini c'ha i dentolini c'ha i dentolini ciao dai bagli la pappa aspetta eccola pappa glu 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 bevuto tutto? si è stata brava? scicla 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 io scicla Sofì scicla 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 guardano tutti i pompetini ma in realtà Sofì io stavo guardando loro due ce l'hanno eh ma non si guarda sotto la coda però eh siamo delle signore non si guarda sotto la coda uffa Sofì e mamma ci ha guardato sotto la coda aspetta è passato un minuto aspetta allora apri il ciuccetto ecco e adesso via tutto fuori giustamente scusate lui è un coniglio ha mangiato le carote ha mangiato le carote mi sa sì le Sofì gli strezza la testa vieni puliscilo va e ecco la nostra aranciata pronta vedete succo di carota fresco dalla nostra coniglietta rock adesso va lasciato riposare sai che cosa facciamo adesso? caccia vediamo lo slime della nostra farfalla siamo pronti? sì ciao vado via mi porto via lo slime tira un po' fuori guarda la nostra farfallina cominciamo a fargli vedere il suo bellissimo slime guardate un po' i miei lamponi con cucchiaino tieni guarda che deve essere venuto bello sodo invece adesso deve essere già solidificato guarda un po' è bravissima forse ci vuole un po' di liquido per lentine no non ci vuole niente non ce l'abbiamo liquido per lentine adesso ci mettiamo la polverina che consiglio a girare aspetta girarlo che lo vediamo da vicino vedo già viola perché quando si spade si vede a volte viola diventerà ancora più viola e metallizzato piano piano girala e prendila tutta vedi che si addensa e diventa slime guarda stavolta ci è venuto bene Sofì mi sa sì siamo state brave c'è un gattino e piano piano anche Sofì ce la farà ecco gli slime è il viscidino com'è questo chi è il viscidino no sentilo te sentilo dai ora maneggiamo un po' te e quello sento anch'io io sono curiosa e adesso vediamo come è venuta l'aranciata che ha fatto che ha prodotto dalla bocca questa coniglietta cichi cichi a confronto sono più belli i suoi occhi allora gira le verso di noi e metti le giù come sono adesso però metti le giù aspettami che le veniamo a vedere eccole tutte e due vicine vicine gira inizia a girarla un po' sembra l'uovo sembra di sbattere l'uovo Sofì vuoi che ti metta intanto l'unicorn magic? vediamo cosa succede adesso ci mette la faccia sopra quindi diventa tutta la faccia colorata Sofì vogliamo scommettere la forma? sì dai abbiamo messo quasi tutto gira sembra non lo so adesso cosa sembra? gira adesso sembra decisamente uomo e adesso? è diventata cremina di uovo adesso mettiamo le unicorn shimmer cosa ci sarà? ci sarà qualcosa di dorato? perché alla fine è venuto bello dorato questo slime sì eeeh tadaaa aspettami eh così ferma eh tadaaa wow è bronzo è bronzo a me sembrava proprio oro è oro bronzo? è oro bronzo è bronzoro è bronzoro è bronzoro sofì ma perchè il mio slime non viene? hai fatto l'aranciata 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 è lucida uffa volevo uno super slime strong brillantinato dorato deluxe ma questo lo potete condividere giusto? sì è un po' rosa come me però io lo volevo super mega strong dorato brillantinato deluxe ma poi viene non ti preoccupare guarda com'è bello cremina gialla va bene mi ne vado quando è pronto chiama guarda una cremina gialla e mi sono unta tutto allora vogliamo vederlo? questo slime quello super mega dorato aprili un po' vediamolo com'è dorato e rock and roll hai visto che è venuto super glitterato il mio mi sembra che c'è come una certa parrucca che ecco diceva mi sembrava di avere come ma uffa oh guarda così sembro bionda non stare male bionda con le trecce fammi l'acconciatura quasi quasi me li faccio crescere i capelli così così ma non fino in fondo sono mica rapunze io ecco la la coniglia patatracca guardatelo prima che si rompa guardatelo prima che si rompa lo stiamo vedendo guardatelo prima che si rompa così così abbiamo tutte e quattro le nostre piccole animalette vero? ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi al canale attivate la campagna ciao alla prossima ciao